Ne approfitto, visto che è qui, per chiederle anche un'altra cosa. Molti di questi anziani hanno fatto un altro tipo di vita diversa di quella che fanno i giovani doggio. Per esempio, per libriachi che chiedono sotto la gente come sottoscritti. Voi fate un sacco di lavoro per bebellare, per prevenire, eccetera, eccetera. Però ho visto anche assessori dentro le discoteche che distribuivano depria, che facciavano vedere i filmati di quelli incidenzati, quindi tranquillamente girati che continuano a vedere. Cosa si può fare perché i giovani doggio crescano bene con questi anziani? in cui i giovani possano ritrovare interesse e motivazione. Io ne cito uno, per esempio, è un'iniziativa nuova che abbiamo appena avviato, si chiama Live.me, si svolge il sabato a 9 metropolitane, viene a Piazza Duomo, si dà la possibilità a tutte le band giovanili di esibirsi e poi si possono fare su iTunes le vendite, le compilation, quindi tante possibilità. Questa è solo una, ne cito altre, abbiamo la fabbrica del vapore che sempre di più adesso con i lavori che stanno ottimandosi si sta aprendo possibilità per i giovani. Stiamo investendo molto in iniziative per avviare i giovani all'imprenditorialità. Abbiamo già avviato oltre 70 aziende di giovani, le abbiamo finanziate, quindi davvero sono tante le iniziative. Grazie.